Tiberis, il primo lido sul Tevere della Capitale, sarà aperta fino a ottobre tutti i giorni, compresa la domenica e i festivi, dalle ore 8 alle 20. La spiaggia di circa 10.000 metri quadrati, attrezzata con sdraio, docce, spogliatoi, ombrelloni e campi sportivi, è ad ingresso libero. Mili scatto per Roma, detenuti a lavoro sulle strade della Capitale. Prosegue così la collaborazione tra Campidoglio e Ministero della Giustizia per il coinvolgimento dei detenuti nei progetti di reinserimento sociolavorativo per i lavori di pubblica utilità, come la cura delle aree verdi e dei parchi della città. I detenuti del carcere di Rebibbia saranno coinvolti in lavori di manutenzione stradale grazie ad un protocollo tra DAP e Autostrade d'Italia. Fino al 22 settembre, presso il Parco Peppino Impastato e la Biblioteca Collina della Pace, nel Sesto Municipio di Roma, la rassegna cinematografica Avvistamenti. La manifestazione organizzata dal Sesto Municipio, da Biblioteche di Roma, nell'Agenzia Spaziale Italiana e dal Forum del Libro con la collaborazione di Alice nella città, ha in programma 23 film e 3 sezioni cinematografiche.